Tutto è pronto a Londra per la finale degli europei femminili di calcio che vedrà affrontarsi questa domenica allo stadio di Wembley, Germania e Inghilterra. La partita è vissuta quasi come una rivincita dell'Inghilterra che nel 2009 venne travolta in Finlandia proprio dalla Germania negli ultimi 30 minuti della partita. Finale che perse per 2 a 6. Penso che l'intero paese si unirà per mostrare entusiasmo, le ragazze hanno dimostrato di meritare di essere in finale, vediamo se riusciamo a portare a casa il trofeo. Contro la Germania vorrei vincere 2 a 0 ma qualsiasi risultato andrà bene, essere arrivati qui è già una gran cosa, il calcio femminile avrà un'attenzione maggiore per cui incrociamo le dita. L'Inghilterra gioca in casa e questa è sicuramente una marcia in più, numero 8 del ranking FIFA e numero 4 di quello UEFA e al suo nono campionato europeo nel 2017 è arrivata in semifinale. Ma la Germania ci crede, le tedesche hanno conquistato il trofeo ben 8 volte su 13 edizioni. E allora che dire che vincano le migliori?